Per la mia storia personale, per il progetto di città che rappresento, per quelli che si sono coagulati intorno alla mia candidatura, noi ci proponiamo di cambiare questa città, di rappresentare la trasparenza, il cambiamento, la trasformazione, la rivoluzione in questa città che ha necessità di essere radicalmente ripensata e di essere radicalmente trasformata a partire dalle pratiche amministrative. Io appartengo al Partito Democratico, sono un iscritto del Partito Democratico, un militante e un dirigente del Partito Democratico e vengo dalla tradizione che nasce dal Partito Comunista, dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana e a quella cultura che parlo. Il Presidente della Regione ieri era qui per assumere degli impegni con gli operatori turistici e con questa città che ha necessità di investimenti e cambiamenti, di una trasformazione e rassicurazione. La prima sul termovalorizzatore e la data e poi sulla balneabilità, sul ciclo delle acque e sulle risorse per il rilancio del turismo. Mi è venuto a fare questo e l'ha fatto, l'ha fatto bene e con De Luca noi potremo cambiare questa regione e anche questa città. Io sono uno che da qualche anno prova a mettere insieme forze, energie e intelligenze per una trasformazione radicale di questa città. Una città che non sia spezzata a metà ma che sia tutta interna nei suoi 94 km quadrati, unica.